Siamo tornati in studio con noi Renzo Scaggiante, infettivologo dell'azienda ospedaliera di Padova. Si parlava di queste inaffezioni, quelle a trasmissione sessuale, che spesso non si identificano perché sono asintomatiche, ma che ci sono e possono portare anche delle conseguenze pesanti se non sono curate, perché addirittura possono sviluppare delle neoplasie? Certamente un sistema immunitario che non funziona adeguatamente per causa di una infezione, quindi un sistema immunitario che chiamiamo immunodeficiente, può far sì che quella persona sia più a rischio per altre situazioni patologiche, quindi sicuramente vale la pena di mantenere il sistema immunitario in modo adeguato. Abbiamo fatto una notevole campagna di sensibilizzazione all'epoca della diffusione del virus HIV. Lei che è un infettivologo nel suo ambulatorio, che cosa vede che è in aumento per la scarsa sensibilizzazione, la scarsa attenzione e cosa ci può dire proprio per comunicare, fate attenzione magari dei comportamenti, possono evitare una serie di malattie che stanno ritornando aggressive o stanno riproponendosi magari in maniera più evidente di quanto ne abbiamo la percezione. L'HFV è il paradigma della infezione a trasmissione sessuale, è in aumento come lo sono tutte le infezioni a trasmissione sessuale, sono aumentati i contatti, è molto più facile avere dei contatti e quindi se non si è in grado di sapere quella che è la propria situazione immunologica o non si adottano dei mezzi diciamo di barriera sufficienti, il contatto sicuramente può essere aumentato a tal punto da venire ad avere una serie di infezioni. La paura e la vergogna sono elementi che albergano soprattutto tra i giovani e possono essere il primo ostacolo alla prevenzione, il primo ostacolo anche alla cura? Quanto è importante abbattere queste due barriere? Sì, sono cose importanti ma forse io direi più che la paura è l'ignoranza di non conoscere che queste infezioni stanno aumentando un po' dappertutto. Se ne parla meno perché fanno meno notizia ma i virus di queste cose qua non si interessano molto e continuano nella loro trasmissione. L'HIV sta aumentando, noi lo vediamo tutti gli anni, un centinaio di nuovi casi nella nostra azienda ospedaliera. E aumenta in che categorie? Senza voler fare della categorizzazione, ma per capire perché una volta si diceva XYZ, in realtà... Nella trasmissione di tipo sessuale, etero ed omosessuale. Quindi non ci sono più quelle categorie che una volta erano i tossicodipendenti, adesso non c'è più lo scambio di siringhe, la dipendenza di altro tipo. E quindi non rimane che il serbatoio grandissimo dove ci siamo dentro tutti che è la etero e omosessualità. Ecco lei ha detto una cosa molto interessante, ci siamo dentro tutti perché nessuno, io sto parlando con un medico, quindi non sto facendo nessun tipo di valutazione morale o comportamentale, però bisogna che a tutti sia chiaro che a tutti può capitare di entrare in contatto con delle situazioni che possono essere a rischio. E quindi, come non ci si vergogna di un mal di gola, delle placche in gola, dovremmo abbattere anche questo tabù relativo a infezioni e a trasmissione sessuale. Quanto è importante per voi medici che appunto ci sia una consapevolezza, una sessuale... Cioè si può parlare nelle scuole di questi temi e soprattutto gli adulti, quanto sono preparati anche nella trasmissione di un messaggio? Esatto. Sì, una volta io ricordo i primi anni, 20-25 anni fa, andavamo nelle scuole a spiegare quella che erano le vie di trasmissione perché appunto si capiva che al di fuori della tossicodipendenza, che era molto importante, c'era la etero e omosessualità che stava aumentando come categoria di nuovi contagi. E chiaramente in quegli anni si è fatto molto in tema di prevenzione. Se pensiamo a quello che succedeva negli Stati Uniti con le associazioni gay, che hanno fatto moltissimo in quegli anni. Poi con l'avvento di queste terapie antivirali, che sono molto efficienti, molto efficaci, si è perso un po' la voglia o non si è investito in prevenzione, che è quella soprattutto, perché poi un'infezione da HIV si può anche curare, ma è molto costosa, come un'infezione di qualsiasi altro tipo si può curare, ma sono molto costose e quindi magari potremmo utilizzare quei soldi in altro modo. Il preservativo è sufficiente a metterci al sicuro da queste infezioni a trasmissione sessuale? Il preservativo, se ben utilizzato, è un'ottima barriera alla trasmissione di questi microorganismi. E' chiaro che però, come tutte le cose, non dà una protezione nel 100%, e quindi si può rompere, magari non si utilizza in modo adeguato, e quindi una certa possibilità di non impedire la trasmissione ci può essere. Quindi bisogna essere anche coscienti di come utilizzarlo. Torniamo alla questione di queste infezioni. Possono essere curate e ripresentarsi, o una volta debellate un micoplasma, un batterio, quello che è, si può riproporre? Sì, la differenza che dicevamo prima fra virus e batteri, e soprattutto una delle differenze è che i virus stimolano il nostro sistema immunitario a produrre degli anticorpi, che di solito poi manteniamo per tutta la vita. I batteri invece non danno questa stimolazione del sistema immunitario, oppure quando lo danno non è adeguata per impedire una nuova infezione. Quindi noi possiamo infettarci più volte. E questi batteri che si ripropongono, lei parlava appunto di una scarsa prevenzione, eccetera, può rendere più forti questi batteri, questi virus più aggressivi? Diciamo che se noi poi continuiamo a trattare questi batteri di cui facciamo la diagnosi con degli antibiotici, è chiaro che sottoponiamo i batteri a questa pressione antibiotica e andremo a selezionarle sempre fra questo pool di batteri, quelli più efficienti, efficaci, che continueranno poi a progredire e dare delle infezioni sempre più importanti. È possibile che un batterio che contraiamo in una determinata fase della vita riusciamo a debellarlo con un antibiotico X e poi diventi questo batterio, magari lo riprendiamo, e sia invece resistente a questo antibiotico? Che la gamma degli antibiotici a disposizione rischia di esaurirsi? Adesso io non voglio creare delle... Ma era per capire come... la patogenesi anche di questi batteri, di questi virus? Sì, è quello che succede nella pratica quotidiana e quello con cui l'infettivologo si trova tutti i giorni a combattere questi antibiotici, questi microorganismi, questi batteri diventano sempre più resistenti, quindi quell'antibiotico che magari nella precedente forma polmonare poteva essere utilizzato senza grossi problemi, nella successiva, a distanza magari di qualche settimana o di qualche mese, nella stessa persona non è più efficace, quindi bisogna rifare una diagnosi più precisa. Abbiamo dalla nostra, diciamo, il laboratorio di microbiologia che dopo aver fatto la diagnosi del tipo di batteri ci può dare anche l'antibiotico più adeguato in modo da non andare così a caso. Un'ultima cosa, questo nostro muoverci da una parte all'altra del globo terrestre ha riportato in Italia delle malattie che noi avevamo debellato oppure a livello mondiale c'è il ritorno di alcuni, di alcuni, non so, penso al vaiolo, penso a forme di questo genere? Allora il vaiolo fortunatamente non c'è più in nessuna parte del mondo ed è stato debellato, guarda caso, da un vaccino, quindi se vogliamo mettere in evidenza quello che possono fare i vaccini. Quindi non c'è rischio che domani si riproponga un vaiolo? Sembrerebbe proprio di no. La tubercolosi ad esempio? La tubercolosi a cavallo delle grandi guerre ce l'avevamo tranquillamente anche qua in Italia, quindi i microorganismi sono sempre quelli. E' chiaro che ci sono alcune zone in questo momento del mondo che sono un po' come eravamo noi durante le guerre. Quindi sono terreno fertile. Con carestie, con possibilità di alimentazione molto molto scarsa. Noi abbiamo sì dei farmaci antitubercolari, ma quello che ha fatto una enorme differenza è il fatto che poi dopo le carestie della guerra si è cominciato ad alimentarsi nel modo adeguato. Questo ha fatto sì che il sistema immunitario fosse più forte e pian pianino la tubercolosi è stata ridotta, non è stata eliminata perché continuano ad esserci dei casi sporadici, ma non c'è un incremento di tubercolosi. E' chiaro che chi viene dalla zona di carestia è molto più facile che abbia queste forme infettive che non un italiano. Un'ultima cosa, abbiamo proprio 30 secondi, dobbiamo avere paura delle infezioni oppure dobbiamo avere una consapevole conoscenza? Una consapevole conoscenza assolutamente. Io ringrazio per queste preziosi informazioni Renzo Scaggiante, infettivologo dell'azienda ospedaliera di Padua. Grazie a voi. Dopo la pubblicità, altro ospite e altro argomento.